Ok siete punti per il boss finale? Quasi sono commosso Andiamo a vedere un pochino com'è Ma ti l'ho salvato vero? Non vorrei fare una cazzata Ma poi potrei vedere un pochino più carino della battaglia finale Magari in giapponese o in inglese non lo so E' anche diverso però Qui in italiano è veramente brutto Vediamo un po' chi ci aspetta Certo Perché salve? Spero che ci dia la mano Infatti Sì 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 Ah ok Quindi hai detto semplicemente Ho fatto delle cose ma tu non le vedrai mai perché non le dovrai farle perché cia 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 Ma si sono stati trasformati in zombie La prossima cosa è di distruttare il prisma Dicato in un'altra parte Prisma? Cosa è quello? E' quello che hai già visto Eh infatti Sì 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 C'è tipo c'è una missione dopo che fa la vera battaglia finale Vabbè no problem andiamo avanti va Solo il tempo ce lo dirà Dai Sono curioso da vedere come finisce il gioco Sono impaziente Sono impaziente Sono impaziente Sono impaziente Mannaggia a te Poi scomento che un finale di merda Però sono impaziente dello stesso Sono impaziente Sono impaziente Sì Prisma rotante E' qui C'è proprio Certo sensei? Ok sicuramente c'è un boss in mezzo che ci vuole operare il cazzo E' proprio Ok Sì Siamo impaziente Sì Solo un minuto Oh E' qui Chi? Un inizio? Sì E' un nemico Sì Sì Un nemico Un nemico Sì Un nemico Questa è un nemico I sottotitoli Un nemico Cosa sta succedendo? Quando sei arrivato? Quando pensi? Quando hai pensato? Prima di te Mi chiamavo la chiamata da Kakashi durante il trattamento E' un'altra Cosa sta accettando A partecipazione dei villaggi Non ti preoccupare, sono tutti sicuri e suono. Certo. In ogni modo, cosa succede con questa ruota? Pensavo che sia lui che sia stato un tipo cattivo, però un blu. Sto appoggiando l'energia per la mista griglia di propagare. Che potrebbe esplicare perché abbiamo un comitato di benvenuto. Ah, pensavo che avrei visto te di nuovo. Non ho mai pensato che tu avessi raggiunto di andare in qui. E tu hai liberato tutti i villaggi che ho avuto il problema di capire. Quindi? Vedi che sei davvero un dolore del medico. Ok, tu! Sto appoggiando ora! Se non ti preoccupare... Non posso solo lasciarti tutti i villaggi. Tu hai visto troppo. Allora portarla già! Sì, ma è inutile che fai il figo. Sei il boss più debole del gioco. Tre contro uno, eh? Allora mi permette di riuscire le tue. Ecco, adesso... Ecco il tizio là che mi lanciava contro il muro! Ha, ha, ha! Ah, che bello! Il tizio mi lanciava contro il muro è un grande! Eh, questo sembra interessante. Sempre così entusiasmante. Sì, sarà un dolore. Di base proprio. Ehi, fermano l'orecchio. Ecco. E ho queste cuffie di voi che sono disgustose. Veramente messe male. Ogni tanto si piantano nell'orecchio e ti lasciano in libido. In questa stanza piena di spore. Vedi, gli umani alterati sono immortali. Per lì c'è dovrei distruggere a fronte di questo loro potere. Questo lo saprò già. E quindi... Cioè, loro sono veramente in due. Io sono uno che va a turni. Oh! E dov'è la musica? Senza musica diventa tutto più... Più brutto. In senso, immagino dov'è prendere pugni sto coso. O uccidere i nemici. Ah, ho capito! Allora, il tizio lì è immortale. Perché è un umano alterato. Aia! 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 Però non so se colpendo queste cose vi faccio veramente qualcosa. Lo so se ti potevo uccidere Kabuto o spaccare steffari. Usiamo Kakashi, va. Uh! Ok, funziona. È messo solo loro perché sempre attacco. Ok. Mica, se si sapevo così subito usavo Kakashi. Guarda dai più Kakashi di Chan Li! Vai! E ora che è successo? Tanto... Non mi toglie nulla, sono Kakashi! Hahaha! Sfigato! Ok, alleati. Sasuke, Uchika. E andiamo qua! Non perché fai le stesse mosse di Kakashi e Sasuke? Vabbò. Ok, me ne mancano solamente due. Tanto meglio. Ma è stato un po' quel bastardo, eh? Riccato a Naruto. Eh, con Naruto ci vuole una vita. Che lo scopo del gioco è far sembrare che Naruto sia una mezza sega. Ma già lo fa prendendo per il culo tutto il tempo, credo. Aia! Oh! Quella sono queste maniere, eh? Ok, ha spaccato tutti i cosi. Aiuto! Ma hai fatto male. Stronzo. E ora che devo fare? Ah, ok. I nemici non sono più immortali. Tutto ciò è molto simpatico. No, vabbè. Facciamo così, va. Ehi, ma che cazzo vuole? Comunque, per lo meno non sono da solo nella battaglia finale. È sempre stato brutto. Ok, questi ci sono morti. Ah, ehi! Non devo fare più. Eh, minchia quanto gli toglie! Sì, 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 sì. Buono, buono. Sì, sì, lancia quel cosi. Guarda che colpisco questi, eh. Che me ne fotte. Ok, io ho tolto abbastanza che ha avuto. Però mi sembra che il Kakashi era pure meglio. Quindi andiamo di Kakashi, va. Alleati Kakashi cagate. Come si fa a evitare quella mossa? Ma che cazzo è una risata quella? Non scusa più essere tipo... Nel senso che sta combattendo o nel senso che sta airendo. E ora che cazzo fa? Così, in teoria la tattica è scappare finché non occuperà la vita Kakashi in modo da poter... fargli il culo così. Quanto... Ok, pochissima virtù. Ok, via. Ok, devo dire che è difficile da schivare quella mossa. Il Kakashi è quasi carico, eh. Cioè, voglio dire, in teoria la potete chiamarlo anche adesso, ma... sarebbe abbastanza stupida come cosa. Eh, eh, eh. A me non ho capito come si schiva, sfigatello. Cosa? Non ho capito bene che cosa ha fatto con... che jutsu era. Jutsu! Ah! Eh no. Eh no! Mmm, pezzo di merda. Vai tu! Vabbè, devo dire che essendoci tanti nemici, è più difficile degli altri. Vado per una caccia. Ehi! Guarda bene cosa ha fatto, ma va benissimo. Ok, e R1 cosa fa? Lighting Blade. È molto coso! Con un colpo! Eh, sì! Un po' forte Kakashi, ma giusto... un attimino! Madonna! Se si sapeva così, lo usavo subito contro loro! Altro che stare a spaccare i cosi! Quanto toglie Kakashi! Lighting Blade! Emoti tutti subito! Mi spaventoso! Non so neanche se è un bug, ma è un bug, perché non è possibile che sia così semplice, dai! Minchia! Che cosa succede? Vabbè, vediamo un pochino cosa succede. Oh! Vedo che sei da merda! Eh, Cabuto! Kakashi... nessuno ne fa cura a Kakashi! Scusate, ma è tornato alla scuola. Allora, sembra che tu sei niente questa volta. E se non puoi capire un ucciso per me, ho fatto una scuola. E se non è niente, è come Sasuke dice, non è il vero enemigo. E' certo, Orochi Maru! Questi sono iniziali. Non puoi portare la guardia per un'altra scuola. E ora, credo! 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 Non di qua, non di qua. Credo! Credo che non è da di qua, eh. Vediamo un po'. C'è la freccia. Va bene, aspetto che si occupi del chakra. Perché si è occupata da solo, vero? Bene! Intorno un po' qua, aspetto che si occupi del chakra. Tanto non è che succeda qualcosa, nel frattempo. E ci vediamo... Tra un po'.